Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca e torniamo indietro di alcuni mesi, era il 25 gennaio quando una guardia giurata sparò al cognato, partirono appunto alcuni colpi di pistola che raggiunsero il cognato all'addome. Come la guardia giurata venne arrestata, in queste ore c'è stato il patteggiamento della pena. Ai nostri microfoni gli avvocati difensori. Ha patteggiato 4 anni per tentato omicidio Francesco Colonna, l'ex guardia giurata che lo scorso gennaio al culmine di una furibonda lite sparò al cognato ferendolo gravemente. Abbiamo concordato con il pubblico ministero, abbiamo ritenuto che fosse la strada migliore per il nostro assistito per definire e per poter compatibilmente con quello che accadrà adesso ripartire. Era lo scorso 25 gennaio quando nel tardo pomeriggio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Benedetto Varchi si era accesa una lite per motivi familiari legati all'assistenza dell'anziana madre, un diverbio tra l'ex guardia giurata e la sorella degenerato all'arrivo del cognato. A questo punto il 41enne aveva impugnato la pistola di servizio e esploso un colpo. A loro arrivo i soccorritori avevano trovato il 46enne in un lago di sangue ferito all'addome, quindi la corsa all'ospedale, l'operazione e la rimozione del proiettile. Si è espresso Colonna nei confronti del cognato con una lettera rappresentando qual era il suo stato d'animo, quello che era il suo pentimento. Il 41enne incensurato sin da subito aveva collaborato con le forze dell'ordine. Sono state riconosciute le attività antigeneriche ma questo significa al solito, non è che la giustizia è disponibile a fare sconti, sicuramente ci sarà stata una valutazione. Lo scorso febbraio era stato scarcerato, attualmente si trova agli arresti domiciliari e ha la possibilità di lavorare, dovrà anche risarcire il cognato in base ad un accordo sul quale poggia il patteggiamento. Anche a fine di un risarcimento parziale sarà fondamentale che possa continuare a lavorare perché altrimenti ben difficilmente potrà far fronte a quello che si prospetta. E ancora in gravi condizioni il trentenne ritrovato in un lago di sangue ed indicatore alle porte di Arezzo ferito con un'arma da taglio all'addome si indaga per tentato omicidio. Si stringe il cerchio attorno all'aggressore che lo scorso martedì ha d'indicatore accoltellato in strada un trentenne lasciandolo poi sanguinante sulla panchina della fermata dell'autobus. La squadra mobile della questura di Arezzo sta indagando per tentato omicidio. Secondo gli inquirenti la brutale aggressione sarebbe avvenuta alle 21 all'aperto, non lontano da dove l'uomo è stato poi ritrovato. Al momento si ipotizza che il responsabile abbia agito da solo nelle mani degli investigatori indizi che porterebbero ad un sospettato. Si indaga nel mondo della droga ma gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista. Le condizioni del trentenne, un cittadino straniero con precedenti per spaccio di stupefacenti erano apparse sin da subito molto gravi. Dallo scorso martedì è ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo dove è stato operato all'addome, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Parliamo adesso invece di politica. Ieri consiglio comunale ad Arezzo tra i temi più sentiti quello delle asfaltature delle strade anche perché insomma ormai davvero sono un colabrodo anche in città come spesso i cittadini ci segnalano e come poi sono sotto gli occhi di tutti. Alcuni progetti di asfaltature straordinarie sono appunto state decise e lo ha annunciato l'assessore alla manutenzione Alessandro Casi. I lavori riguarderanno il perimetro di via Fiorentina, viale Don Minzoni e via Baldaccio D'Anghiari, un impegno di 280 mila euro. E ancora un chilometro di strada invece tra via Tarlati e la rotatoria che incrocia poi con viale Santa Margherita e l'acquedotto Vasariano. Qui l'impegno sarà di 400 mila euro e ancora due chilometri nella zona compresa tra via Anconetana e via Trento Trieste. Verranno invece spostati al 2024 i lavori che riguardano la scuola Tortaia, l'adeguamento antincendio della sala vasariana, il consolidamento di Castelsecco e la rotatoria in via Chiarini che fanno spazio, ha detto ancora l'assessore Casi, agli interventi finanziati con il PNRR a cui abbiamo preferito dare priorità anche in termini di carico di lavoro che i tecnici comunali devono affrontare. Alluvione in Emilia Romagna, in queste ore un furgone carico di aiuti è partito proprio da Arezzo alla volta delle popolazioni alluvionate. Siamo arrivati e stiamo sbancalando. Un furgone carico di materiali di prima necessità e cibo d'Arezzo all'Emilia Romagna, alla guida Giovanni Grasso e Siro Piantini, rispettivamente presidente di OPI e vicepresidente del Calcit, ma in questa missione semplicemente due cittadini aretini che sono andati in soccorso a dei cittadini di Forlì martoriati dalle alluvioni. Un po' come accadeva in epoca Covid, una volta individuato il bisogno, c'è stato solo da raccogliere la grande generosità degli aretini che non si è fatta attendere. Oltre 18 mila euro di materiali come latte in por, il vero materiale per la pulizia, cibo, disinfettanti e molto altro, sono partiti alla volta delle popolazioni in difficoltà. L'esperienza è nata dal collega e amico e amministratore della società in cui faccio parte anch'io di TR Italy, che ha dato un enorme contributo per poter acquistare questo materiale. In più ci sono anche dei commercianti aretini e due malmi della Mito Minelli, poi ci è aiutato anche per il trasporto di Milani Colori e anche altre aziende che sono volute rimanere nell'anonimato, però stamattina abbiamo fatto, secondo me, una cosa veramente eccezionale. Venendo qua ci rendiamo conto che tutto quello che fanno vedere il televisore, sì, però è qualcosa che ti commuove. Stiamo contenti del fatto questo e facciamo anche un appello che noi abbiamo anche altri materiali e se qualcuno avesse dei prodotti da poter consegnare ci contatti e noi saremo ben felici di tornare qua a riportare e aiutare per noi a dare un piccolo sorriso a queste persone che hanno il televisore di noi. Solo due parole per inzassiare la comunità di Arezzo che ha dato questo contributo. Il nostro è stato uno sforzo piccolissimo in confronto a tutto quello che è successo, quindi ringrazio veramente di cuore perché tante cose, anche piccole ma importantissime, possono aiutare in questo momento tutta la nostra comunità. Grazie ancora di Arezzo e tutti i partiti sotto il cittadino. Chiaramente il canale in questo momento è aperto con la città di Forlì, con il comune in particolare, pertanto sicuramente ci saranno altre raccolte sia di materiali che di fondi per poter aiutare questa popolazione e da parte nostra ci sarà un continuo collegamento con la città. La solidarietà degli arrettini non mancherà, ne siamo certi. Parliamo adesso invece di sanità. L'intervento è quello di Gabriele Veneri, di Fratelli d'Italia, consigliere regionale. Regionale, troppe criticità, dice per la sanità in provincia di Arezzo, c'è proprio a rischio l'assistenza alle ricadute delle scelte regionali, secondo il consigliere di Fratelli d'Italia, avallate dalla politica locale con accordi al ribasso, hanno determinato la disastrosa situazione che stiamo vivendo. E pronto soccorso sono soltanto la punta dell'iceberg, dell'agonia della sanità territoriale. A causa della cronica carenza di organico non riescono ad assistere adeguatamente tutti i cittadini. A tutto ciò, dice ancora Veneri, vanno ad aggiungersi le tensioni nel mondo del volontariato, alle prese con la mancanza di adeguati sostegni regionali e con un numero di volontari sempre più ridotto. Dalla Valtiberina alla Valdichiana, dal Valdarno al Casentino, ci ritroviamo con quattro vallate, conclude Veneri, in grande affanno dal punto di vista della sanità, complicata anche da una viabilità a dir poco accidentata. Una bella notizia che riguarda il mondo dell'informazione, ormai da alcuni giorni, tre per la precisione, il Corriere di Arezzo è tornato con la sua sede in pieno centro storico in città. Nel cuore di Arezzo, qui la nuova sede del Corriere di Arezzo, una storia lunga, quasi 40 anni, manca poco. Sì, il Corriere di Arezzo è nato nell'aprile del 1985, quindi ci avviciniamo a questo importante traguardo. In questi giorni per noi è una grande ripartenza perché dopo due anni e mezzo, quindi dal periodo Covid in avanti, torniamo appunto, come dicevi, in città. Siamo stati gioco forza costretti a spostarci sulla nostra sede centrale del gruppo Corriere a Perugia. Abbiamo continuato comunque a presidiare la città e la provincia, ma adesso diciamo che è una cosa per noi importantissima essere di nuovo nel cuore della città, nel cuore di questa provincia. E come ha sottolineato in questi giorni il nostro direttore Sergio Casagrande, sono poche le città e le province che possono avere un loro giornale. Il Corriere di Arezzo quindi è un valore per tutta la comunità. Noi portiamo avanti questo lavoro di informazione, di comunicazione, nonostante le difficoltà che la Carta ha, ma con una nuova forza, un nuovo vigore dato anche dal nostro editore Francesco Polidori che appunto crede in questo mezzo di comunicazione, tant'è che eccoci di nuovo qui in città, il Corriere di Arezzo. Ecco, la redazione Luca sarà implementata, ovviamente oltre ai colleghi storici ci saranno poi degli innessi. Dunque in redazione ci sono i colleghi Marco Antonucci, Francesca Muzzi, Giovanna Belardi e c'è una rete di collaboratori sul territorio, la presenza dello sport. Ci sono investimenti in corso, c'è tanta determinazione di fare bene, di raccontare i fatti degli aretini. Abbiamo anche in questo periodo fatto questa nostra missione e adesso potremo farla ancora meglio. Anzi, tra l'altro colgo l'occasione per dire che abbiamo anche uno spazio che si chiama La Voce dei Lettori per il quale contattandoci ai numeri, alla mail che sono riportati nel quotidiano ogni cittadino di qualsiasi parte della provincia può contattarci per far presente storture, situazioni che devono essere migliorate. Noi ci faremo portavoce delle loro istanze. Allora buon lavoro perché insomma una voce in città non era mancata, ma era mancata fisicamente, è sempre simbolo insomma di democrazia. Sì, sì, il pluralismo dell'informazione è un valore. Abbiamo avuto in questi giorni anche tanti messaggi da colleghi di qualsiasi testata per il bentornati in città e credo che questo sia una cosa importante per tutti. Cominceranno il prossimo lunedì 29 maggio i lavori per il restauro della tomba numero 1 del tumulo 2 del parco del sodo a Cortona, l'area archeologica resterà comunque aperta e visitabile salvo la zona interessata dal cantiere. I lavori in questa fase prevedono il restauro proprio della tomba, si tratta di un intervento che ammonta complessivamente a 205 mila euro. Il progetto è stato approvato dalla soprintendenza, i lavori si concluderanno entro il prossimo novembre. Successivamente verrà fatto partire un secondo intervento che riguarderà la copertura della tomba. E con il prossimo servizio rimaniamo a Cortona perché, insomma, Cortona festeggia il suo cittadino più illustre, Luca Signorelli. In queste ore la presentazione di tutte le iniziative in Regione Toscana. Il servizio. A 500 anni dalla morte, Cortona è pronta a celebrare Luca Signorelli con una grande mostra. Dal 23 giugno all'8 ottobre, il maestro dei grandi del Rinascimento, tra cui Raffaello e Michelangelo, sarà protagonista di una retrospettiva nella sua città natale, un'iniziativa presentata adesso in Regione Toscana. Finalmente sta per partire la mostra Signorelli 500, un grandissimo sforzo da parte della nostra città. Lo ricordo, forse il più grande sforzo mai impegnato dalla città di Cortona per l'organizzazione di una mostra che vedrà appunto Cortona protagonista a livello nazionale e anche internazionale, grazie a numerosissimi prestiti da tutto il mondo. Un'esposizione attesissima in programma Palazzo Casali, sede del MAIC, dove arriveranno una trentina di opere dell'artista provenienti da prestigiosi musei italiani ed esteri, compresi importanti prestiti da collezioni private e da oltreoceano. Con la mostra di Cortona, un po' tutta la Toscana si ritroverà nella valorizzazione di un Signorelli che rappresenta veramente uno dei protagonisti dell'epoca del Rinascimento, quella che l'uomo politico che la sorresse, Lorenzo il Magnifico, diceva «Chi vuole essere lieto sia del domani non v'è certezza» e quindi che la bellezza si esprime nell'arte, nella letteratura, nella musica, nella filosofia e Signorelli è stato uno dei protagonisti. La mostra si integra con gli itinerari di Signorelli in città e nelle località a Tosco Umbre cussodi di importanti testimonianze del maestro. Questo perché l'idea che ci vogliamo, lo scopo che ci vogliamo dare è quello di far sì che le celebrazioni non finiscano con l'anno del centenario, ma che questa serie di iniziative, di suggestioni che riportano l'attenzione sul grande maestro cortonese durino anche oltre. Ovviamente ci ospitiamo davvero anche un grande ritorno di presenze, oltre che ovviamente di ricaduta a livello culturale e quindi siamo assolutamente vicini per poter dare un supporto, per quanto ovviamente ci sarà possibile, a uno degli eventi più importanti non solo di questo anno ma di questi anni anche del nostro mondo. Nell'ambito dell'iniziativa Amico Museo organizzato dalla Regione Toscana, domani alle 16 alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa San Paolo, sarà possibile partecipare gratuitamente ad un'esperienza di visita guidata inclusiva organizzata in collaborazione con l'Associazione Toscanabile che sta implementando il suo modello 100% inclusive in una serie di luoghi della cultura e dell'arte della città di Arezzo. Il progetto prevede il coinvolgimento di persone con disabilità opportunamente formate in qualità proprio di co-guide che affiancheranno il personale del museo nel corso della visita. Con il prossimo servizio scopriamo perché studenti diventano attori. Studenti che diventano attori e portano in scena veri e propri spettacoli. Un anno di teatro per le scuole, quello firmato da noi delle Scarpe Diverse, associazione culturale e aretina impegnate in una serie di progetti didattici e laboratori nelle scuole che nell'ultimo anno scolastico hanno coinvolto circa 1500 studenti. Sarà tutta la scuola? Che storia forte! Io non ci vengo. Recita anche quella che piace a te? Ma chi? Quella alta così? Sì! Quella con i capelli così? Sì! Allora ci vengo! Tra gli appuntamenti la rassegna il classico in scena inserita nel festival per le scuole e messaggi della rete teatrale Aretina che ha portato sul palco del teatro Pietro Aretino tre spettacoli scritti da Samuele Boncompagni. I ragazzi sono bravissimi, li sono messi in gioco, sono tre gruppi che praticamente formano 60 ragazzi in totale quindi siamo veramente contenti, è una soddisfazione. Primo appuntamento con la commedia Goldoni sei meno meno. Metto in scena questo Goldoni molto particolare nel quale succederanno molte, molte, molte vicissitudini verranno ostacolati da una serie di ragazzi un po' più secchioncelli che cercano di sabotare il laboratorio teatrale, insomma è una cosa molto particolare. Con fratelli di banco abbiamo poco tempo. Un'ultima soluzione. Totale. Definitiva. Manca una secchimana. Ragazzi ritiriamoci e meditiamo su da farti. Ritiriamoci. Ritiriamoci. Che si fa? Ritirati. Che? Esci. Ah, bossona a tutti. Bossona. La rassegna è stata anche l'occasione per festeggiare la conclusione del trentesimo anno di laboratori proposti dall'associazione all'interno del liceo Petrarca. prossimo fine settimana denso di iniziative sarà anche un po' critico sotto il profilo del traffico e allora un fine settimana che si aprirà con il nono raduno degli ex appartenenti al 225esimo reggimento di fanteria di Arezzo. La iniziativa è prevista in piazza Mintore e Fanfani, una porzione della piazza, esattamente dalle 7.30 alle 12 appunto di sabato 27 maggio, mentre dalle 10.30 alle 11 durante la sfilata dei partecipanti è interrotta proprio la circolazione per il tempo necessario ovviamente al loro passaggio anche in via Petrarca e piazza Guido Monaco. La giornata più critica indubbiamente sotto il profilo del traffico sarà domenica 28 maggio perché è prevista l'edizione 2023 della scalata del castello, quindi parliamo di podismo, i due momenti della giornata diciamo focali saranno alle 9.30 e poi nel pomeriggio per la partenza delle gare appunto previste nel pomeriggio di domenica, ma insomma dubbiamente tutto il centro sarà off limits al traffico e al parcheggio. È in calendario sempre per domenica anche l'undicesima edizione del mercatino dei ragazzi del Calcit, in questo caso a Ceciliano, comporterà dalle 6 alle 24 il divieto di transito e sosta esattamente appunto nella zona di Ceciliano e quindi insomma ci sarà da fare attenzione. Poi il raduno provinciale di auto e moto storiche città di Arezzo giunto alla sua undicesima edizione, in questo caso i divieti di sosta e traffico saranno dalle 14 alle 19 nella zona di via Ricasoli, quindi comunque anche in questo caso pieno centro storico. Domani alle 18.30 a tutti al Palaestra per tifare SBA perché si gioca la gara 3. Se la devono gustare, è un premio a quello che hanno fatto loro, ci sono ragazzi che lavorano tutto il giorno e che io li massacro tutte le sere all'allenamento, mi hanno dato l'anima e pretendo che me la diano ancora per una settimana. Un'intera stagione appesa a 5 incontri, 5 gare per conquistare la Serie B. Per adesso Prato e Arezzo sono pari, quella che si giocherà al Palaestra sabato 27 maggio alle 18.30. È una gara importantissima per la scuola basket Arezzo dopo un campionato in Serie C Gold dove non era per nulla scontato rimanere nei primi posti della classifica. No, è stata una stagione anche inaspettata perché siamo partiti con l'obiettivo di fare bene, però poi ci si è resi conto che il campionato era di un livello stratosferico per essere una C Gold. Siamo riusciti nel giro d'andata a rimanere agganciati a quelle che erano in testa, poi abbiamo messo dentro Facundo Toia che ci ha dato il passo in più e siamo riusciti ad arrivare ai play-off. Adesso onestamente siamo una squadra di tutto rispetto, molti hanno avuto paura di noi negli ultimi tempi ed è stato giusto così perché poi abbiamo dimostrato di essere una delle più forti. Punto dolente, l'infermieria come ha messo? L'infermieria, l'ho chiesto a Fornara che si era infortunato durante la partita di dare tutto quello che aveva e da professionista il ragazzo stupendo che è l'ha dato, ha giocato in condizioni naturalmente si è visto che non poteva spingere ma ci ha dato comunque un grande contributo perché è un giocatore chiave. Adesso non si guardano più gli acciacchi, la stanchezza, ci giochiamo una stagione, forse anche alcune carriere, me compreso in due partite, tre partite. Bisogna andare avanti in qualche modo. Quindi insomma manca il sigillo finale, forza e coraggio. No, manca il sigillo finale ma non va preso come un dentro fuori dal primo minuto, ce la dobbiamo gustare, ce la siamo meritata, forse l'ho detto anche ai ragazzi, siamo la squadra a essere meritata di più perché abbiamo fatto tutto di rincorsa, siamo sempre stati dietro, con Lucca è stata una serie incredibile che anche a livello di energie nervose ci ha tolto tanto ma ci ha dato tanto. Gara 3 sarà di fronte al pubblico aretino che potrebbe fare davvero la differenza dopo le prime due giocate a Prato. Siamo riusciti nell'arco di tutto l'anno a avvicinare sempre più persone, è cresciuta la passione anche tra i ragazzi del settore giovanile, l'ultima partita abbiamo visto molta più presenza anche di loro, spero tanto, ma soprattutto lo spero per i miei ragazzi che deve essere un premio a quello che hanno fatto, che si riempa questo palazzetto e che poi si dia continuità alla cosa. Ed infine chiudiamo parlando della 66esima edizione del Cavallino d'Oro, il premio del quartiere di Porta Santo Spirito, come sempre ospitato dalla sede del quartiere giallo-blu, è stato Paolo Giovannini, destinatario lui stesso del premio, ad annunciare una notizia durante la serata, ovvero il rinnovo del contratto con Mirko Lazzarini, anche lui destinatario del Cavallino d'Oro, il centrocampista confermato appunto dal club, ha speso parole importanti per descrivere l'annata appena conclusa e quella che verrà. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio allora con la nostra programmazione, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per la visione!